Mi sembra un minuto troppo tardi. Il palasporto non dovrebbe essere mai stato occupato dai profughi, così come i profughi che stanno arrivando sulle coste italiane non dovrebbero arrivare in queste quantità. È evidente a tutti che non si tratta solamente di richiedenti asilo, molti di questi non hanno neanche i prerequisiti per poterlo fare. Si tratta di migranti economici, sono povera gente che ha tutto il diritto di essere soccorsa da un paese ospitale come l'Italia, ma non possiamo accoglierci tutte le persone che hanno bisogno di trovare un futuro migliore. Questo è un paese in seria difficoltà. La Liguria è una regione in seria difficoltà, vive di turismo e in una stagione turistica come questa abbiamo fatto presente al governo Renzi più di una volta che quello che sta accadendo non ci è d'aiuto, anzi c'è di grande danno alle imprese turistiche Ligure. Sulle imprese turistiche Ligure vivono decine di migliaia di persone in questa regione. Il CIE dipende dal Ministero degli Interni e dal governo, noi abbiamo detto che ci sarebbe utile averlo e sarebbe importante che i clandestini venissero espulsi soprattutto, perché il CIE come dice la parola stessa è un centro di identificazione ed espulsione, quindi il tema non è tanto il CIE che se verrà qua a Genova ospiteremo in Liguria, ma ha una scelta del governo, due la collocazione da scegliere il Ministro degli Interni, tre una volta che si fa un CIE bisogna spellere i clandestini perché altrimenti il CIE è piuttosto inutile.